La sosta è lieta di presentare la 32esima rassegna internazionale Jazzmin 2019. Fermati alla sosta e fatti accarezzare dalle note della musica jazz. Si inizia lunedì 4 febbraio con Dave Kikoski Trio. Lunedì 18 febbraio Israel Varela con The Labyrinth Project. Lunedì 4 marzo David Bini e Simone Graziano Duo. Lunedì 25 marzo Atomic Bus. E per finire lunedì 1 aprile Sade Mangia la Cina Quartet featuring Greg Oswin. Vivi in dimenticabili atmosfere Jazzmin, la musica più vicina all'amicizia.